Oggi c'è un atteggiamento del governo, un atteggiamento nuovo, molto programmatico, teso ad affrontare i problemi senza girarsi dall'altra parte e ovviamente vedremo le reazioni anche in Europa. Per quanto riguarda la Francia basta andare al confine di Mentone per vedere qual è il loro atteggiamento con gli immigrati. Ci sono stati pochi giorni fa, insomma sembrava uno schieramento paramilitare rispetto agli accessi e quindi hanno poco da insegnarci come qualcuno, anche autorevole tra i giornalisti di Chiameri e Sottolinea. Quindi è solo come negli occhi quella dell'apertura della Francia? Vedremo, lo valuteremo, noi siamo ben contenti se qualcuno comincia ad assumersi qualche responsabilità condividendola con l'Italia, è quello che chiedevamo dall'inizio. Il carico dell'immigrazione clandestina, essendo noi il paese più esposto, c'è stato delegato di fatto negli anni, i governi italiani non hanno mai saputo affrontare la questione, se qualcuno condivide questo problema con noi e magari prova a risolverlo, ne siamo solo lieti.